Questa meditazione è guidata da Edoardo Conte, fondatore del portale della fratellanza fraternity.it. Serve a penetrare il valore dell'accoglienza. Chiudiamo gli occhi ed entriamo nel nostro cuore, ascoltando il ritmo nella sua profondità. E dentro al cuore sentiamo emergere il valore dell'accoglienza. Il valore dell'accoglienza è prodotto dall'amore che contiene e sostiene tutte le creature e dal valore della conoscenza, simboleggiata dalla stella a cinque punte. Opentalfa, che ha la funzione di entrare dentro le cose per scoprirne il significato, la proporzione e la misura. Accogliere è dunque conoscere l'ampiezza della propria interiorità, in modo da trovare posto agli affetti grandi e piccoli secondo le priorità del cuore. Un focolare acceso per riscaldare gli animi infreddoliti. Pensiero seme. L'accoglienza è conoscere l'infinito spazio interiore in cui gli altri trovano casa. L'accoglienza ci riporta immediatamente ha questo significato di spazio infinito, tanto grande quanto la nostra immaginazione. può essere senza confini, di cui non vediamo l'orizzonte, così grande da non vederne i contorni. questo è il nostro spazio interiore e quando entriamo in quello spazio possiamo accogliere tutto e tutti. c'è spazio per ogni cosa e ogni persona, ogni idea, ogni pensiero, ciascuna emozione. e più esercitiamo l'accoglienza e più scopriamo nuovo spazio, nuove regioni inesplorate dell'accogliere. attraverso l'accoglienza possiamo anche addirittura accogliere l'ignoto e dunque superare l'angoscia, poiché quello spazio infinito diventa magicamente il nostro centro di azione, un infinito centro, un paradosso talmente ossimoroso da essere del tutto vero. ecco questa è l'accoglienza fatene buon uso scegliete il suono, la luce, il colore e la vibrazione e infine portatelo in un'azione che si imprima nella realtà. ed ora ognuno coi propri tempi ritorni alla coscienza di veglia. grazie 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 grazie